Il regolamento comunale per lo svolgimento del mercatino dell'usato, dell'obbistica e del piccolo antiquariato e alcune variazioni del bilancio di previsione sono stati tra i punti, 12 appunto, dell'ordine del giorno che sono stati trattati nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Floridia. Il dettagliato resoconto lo fornisce il Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Pappalardo. È stato un Consiglio Comunale articolato perché, diciamo, per quanto riguarda le cose di maggiore interesse per i cittadini ci sono state alcune variazioni di bilancio proposte dall'Aggiunta funzionali sia ad organizzare delle attività di manutenzione in giro per il Paese che già i cittadini stanno in parte apprezzando e stanno potendo vedere per poterle continuare in maniera così attiva e profigua. Poi una variazione di bilancio importante che servirà sempre all'amministrazione per poter riattivare dopo tanto tempo il servizio di riflessione scolastica per i bambini e poi ci sono tutta una serie di iniziative che sono state proposte dai consiglieri di maggioranza. Il regolamento per il mercatino dell'usato che è stato proposto dalla consigliera Leotta ed altri sempre nella maggioranza è un regolamento importante che vedrà l'attivazione di questo importante mercatino per il territorio di Floridia. Poi altri due regolamenti importanti quelle che sono ricordate come i comitati di quartiere in realtà si chiamano consulte territoriali e l'amministrazione di alcuni consiglieri vorrebbero riattivarle soltanto che sia questa sia anche un'altra importante questa che era proposta dal consigliere Giussi Carofalo e il regolamento per la consulta delle famiglie che invece era stato proposto dalla consigliera Barba Di Mauro e altri consiglieri siccome in sede di commissione poi ci sono stati richiesti degli approfondimenti non siamo arrivati ad approvarli nel consiglio che poi è finito anche tardi insomma è un consiglio complesso e quindi insieme ad altri punti faremo probabilmente un altro consiglio già a fine mese o inizio dicembre quindi in buona sostanza siamo a buon punto abbiamo completato la gran parte dei lavori di quest'ordine del giorno completeremo prossimamente e adesso mi fatti incuriosire perché è stato complesso il consiglio comunale? complesso perché c'era troppa carne al fuoco nel senso che avevamo tante cose su cui deliberare quindi in realtà poi alcune cose andavano approfondite quindi per fare le cose bene abbiamo deciso di approvare tutto quello che si poteva approvare in maniera diciamo celere per poi fare degli approfondimenti nelle prossime settimane e finire il lavoro a fine mese o inizio dicembre comunque prestissimo Passa d'intesa con l'opposizione il regolamento dunque comunale per lo svolgimento del mercatino dell'usato, dell'obbistica e del piccolo antico eriato che è stato proposto come deliberazione dai consiglieri comunali della maggioranza così come meglio specifica la consigliere comunale Elena Leotta Sì, nell'ultimo consiglio comunale insieme ai consiglieri di maggioranza ho ritenuto importante di portare all'attenzione il regolamento per lo svolgimento del mercatino dell'usato del lobbystica e del piccolo antiquariato a mio parere è un'iniziativa molto importante non solo sollecitata ma richiesta da molti cittadini di Floridia inoltre costituirebbe un valore aggiunto al nostro territorio perché sarà appunto un luogo di aggregazione e di ritrovo il mercatino come lo abbiamo immaginato sarà un luogo dove si potrà vendere, acquistare o barattare oggetti di produzione propria, usati oppure da collezione inoltre il messaggio che vogliamo trasmettere è la cultura verso il riutilizzo perché appunto questi oggetti verranno riutilizzati quindi avere anche un occhio di riguardo verso l'ambiente infine il regolamento prevede 15 articoli per lo svolgimento di questa manifestazione in modo sicuro e ordinato le persone che potranno partecipare saranno semplici cittadini che non hanno appunto attività commerciali perché appunto questo mercatino non ha uno scopo commerciale l'ho proposta perché vedo che questa iniziativa sarà appunto molto apprezzata dai floridiani l'area proposta e riservata allo svolgimento del mercatino potrebbe essere piazza caduti di Nasseria ma secondo un calentario che potrebbe essere predisposto diversamente anche per le festività potrebbero altri luoghi accogliere l'iniziativa dove sono ammessi scambi e vendite di bigiotteria, filatelia, numismatica, libri, riviste, monile e orologi ma anche pizzi e merletti o dischi, giocattoli, tappeti, hobbistica, biciclette e attrezzatura da giardino grazie grazie grazie